Musica Musica Ma mi spieghi a cosa serve sulla FP6 il calcio anteriore? Ma che difende? Si puscia solo Fluz non si difende Ma voi però potete scherzare Mentre nello spawni gli fai i giretti in base e cominci a ammazzarli Io vado sotto eh Io so solo cosa significa attaccare dal latino attaccare in bianco faccio punto sempre ciao ciao era in bianco uno è in rosso nascosto oddio ci hanno aperto la porta ci hanno aperto la porta l'ammazzio grig oddio quanto è cattivo sto pompa ciao non l'hai preso io sguscio faccio punto sempre boom ora mi campero qua non faccio punto sempre ciao boom no mi ho abbombato mi ho abbombato no sono caduto e sono morto mi sono schiantato al suolo e sono morto no è lag compensation oh no vivo sempre ciao no vabbè dai l'ho appena detto e sono morto sopra sopra che li fai fai punto sbattire il cazzo lascialo bene lascialo perdere almeno il punto ma colta lascialo perdere sei pazzo lascialo perdere ma siamo 11-3 poi apriteli no ma dobbiamo fare 150 miliardi di punti io vado davanti col pompa sempre ciao a miei tre anime mi ha chiuso il portone centrale no davvero boom no se la terza pompa adentrava ora era una tripla de cristo madonna non sono entrati i colpi non mi chiedete punti perché no no non ne faccio ma l'avete chiusa le porte? giorgio giorgio chiedetele le porte si ma chiedetele le porte eh vabbè ma tanto sei scarso ma l'ha aperta tu l'amico no è top brown top brown no non è morto no no regà quando io mi fermo di sparare quando mi fermo ma perché io sono ritardato e mi fermo di sparare tu ti assista un altro green ah si la stu'nato no l'ha preso tutti a sinistra tutti a sinistra dove? dove? è dietro entra rosso ma perché mi ricarica da solo quando premo troppe volte il tasto per correre? pi 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 la faccio ce la faccio no stavo a fare un long range de cristo de cristo ragazzi io ho fatto schifo andiamo io provo a fare una cosa intelligente voi andate a destra sempre in pawn shop e camperatevi nelle case raga non dovete uscire in campo aperto con gli smg dovete stare dentro alle case e uscire quando vedete i nemici che vi passano davanti vai 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 non hai proprio fiducia in me? no no io sono passato di qua perché faccio una cosa intelligentissima non ti preoccupare ci penso io ci penso a zeo kree oddio c'è una casa centrale è per quello che ti dice uno una sinistra una sinistra preso ok ora 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 prendetela ora prendetela l'smg vado a catturare merda preso destra una destra ferito una destra ferito destra largo a destra giratevi sono spawnato qui sono spawnato in in puntane devono essere c'è un'altra adesso un'altra largo a destra un'altra largo a destra ok ho tre colpi raga vado a guardare l'ina eh ma facci però prendilo quell'ina aggrediscilo ok prendi A tutti a sinistra uno è sopra broken uno è sotto broken sotto broken ora preso guida no 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 vai rega tranquilli quanto cazzo sono forte ah tu eh ah eh ok e io eh oddio salgo soprappone mi campero è un e gas bastardo maledetto non è morto io sono su alto io tengo su alto oh si è down madafacca ha leftato mamma mia rega mamma mia rega rega che gli ho fatto vi giuro rega quello sta piangendo guarda 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 quello in gas guarda quello in gas ma Giorgio c'è cosa vuole che ci saltiamo soffre è stato un altro questo qua è il nuovo arrivato uno è stato al ristorante però c'è ci sta in casa la vendo da voi bravo è bello reciprocare sono a tre ora la mia destra la mia destra attenzione claudia mendola rega qualcuno deve andare in questo vuole la tornata e la presa qualcun altro io sto camperato qua ok beh ci vado io dai la lascio perdere faccio il giro faccio il giro largo bravo mi hai salvato la vita a zante bravo sotto prendila ti copro io con le trillox no no non vedevo niente su sfondo bianco dai dai chi mi deve venire a sfidare oh quello mi ha aspettato un'ora no 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 allora la kill è mia torno di pistola non arrivava la vendetta la vendetta cazzo uno che c'ha maratona uno che c'ha maratona uno che c'ha maratona uno che c'ha maratona non c'ha maratona come non ce l'hai ciao 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 bella oddio drillo che paura qualcuno ha guardato rosso ma sono tutti i nowens no no sono tutti i nowens comunque oddio drillo ci siamo noi no 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 vabbè che aggancio io ho fatto raga rasciata iolo interessante questo vai rifai qualcosa dai dai vediamo un po' fatemi controllare dal finis no ho sparato no il secondo non l'ho ammazzato rante non andare avanti una volta che fai la kill devi cercare di riavvicinarti i compagni perché ti cercano gli avversari mannega 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 sentite chi è che viene a fare una rasciata iolo con power dai green non ce l'hai una classe con maratona per fare rasciata iolo la rasciata iolo è questa guarda proprio tiri dritto tiri dritto e vai a centro mappa così è quella così vedi vai dritto giri pure a sinistra giri così perché se sei scontento no no guarda uno l'ho preso l'altro è in rosso l'altro è in rosso lo vado a prendere perché io faccio le rasciate iolo iolo non l'ho sentito si iolo va bene va bene va bene io io ancora zero non hai capito uno l'ho preditto proprio che mi sarebbe arrivato da dietro guarda come mira la testa guarda come mira la testa perché so che l'headshot fa più male ebbe lasciate iolo regà ma dove giri sei inutile un è qua ciao te piscio te ne va te ne va te ne va te ne faccio così lo faccio così mirando kill in condizioni improbabili sono mai andato sotto e sta andando in B ma hai messo un scotch sul grilletto sinistro adesso ci guardiamo un po' dietro di nuovo dietro andati na ora è na ora è na ora è na zante ora è na non ho cambiato un cazzo ma ce l'hai davanti kree eccolo ecco via arriva attattattattattattattattà stand down kree allora puoi fare la lasciataiolo vedete che vi prende bene quando fai la lasciataiolo kree che devi fa nooo oddio kree eh vabbè guarda che lo so no ragazzi avete appena assistito a Kree che ha il wallack, ora si spiega come fanno quelle cose incredibili sul loro canale bravo Kree, bravo Kree guardate ragazzi, ha premato prima che sapesse che ci... cioè dai Kree, è palese questo è palese che tu c'hai il wallack sei sceso, hai premato dai Kree, cioè con tutto il rispetto però, sai, queste cose non si fanno non si fanno queste cose non si fanno Zante gli ha tipo ficcato la canna nello stomaco e poi ha sparato cioè quello è morto carbonizzato, guardate go bitches vabbè controllate un po' B mi hanno tirato una stun no no, l'ho mattato quello che l'ha tirato aaaah un è pro shop va c, va c, va c allora io prendo la porta frontale di B voi tenetevi quella dietro ok, occhio, sono entrato su B ma non c'è bisogno di entrare ragazzi cioè, è nostra la partita adesso basta che li aspettate fuori escono loro oddio ha un alfa ha un alfa ha un alfa ma che cazzo è girateci adesso ma guarda che spawn sono spawnato in alfa con il nemico di fianco io sono subito sto prendendo va bene, l'info non muore l'info non muore bella power girata, 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 girata è su un nato? ok, c'è uno su alfa siiii 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 porca puttana è sempre da dietro uno pro shop quello vuole essere di shot secondo me rimaniamo così eh ecco vabbè impossibile nooo mentre scavalco 1b 1b esce dalla porta frontale bezza ecco sto shot 2b 20 40 era 4 30 o.5 33 30 48 40 50 ve lo allora allora ragazzi ragazzi non vi preoccupate è easy win qualcuno controlli pro shop banshee prendi a ma qui no 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 guarda gli pro shop ma come da soli invi e prendile fai far panico tanto so fa tutto che ciò mamma pesa una centrale due centro non c'è nessuno va in pro shop a vento la shop c'è lì al centro ai porco 2 non li vedo manco arrivare cazzo mesurina di qua oh mio dio ce l'ho dietro ce l'ho dietro ce l'ho dietro acqua non è morto mamma mia due cilindri e sconato lì come scuola da solo stare in vista di in b eccolo eccolo l'ho cartellato andiamo in c mi amici se qualcuno nasce vicino a me andiamo in c difendete a voi che rinascete difendete a oh mio dio sit down mi hanno stunato mi hanno stunato stunato è sulla bandiera di c andate in b andate in b va in pro shop vai in pro shop vai manco ferie di merda ma la prendiamo quando io fai ci guarda il centro bai ci guarda il centro buona mori un altro in un altro in a tirate qualcosa va la prendita i banchi a ferire ha ferito conto è andata adesso è andato a destra per kidnapped vai外 mani a brendano li ha mie chine amici ragazzi nia minci nia minci nia minci nia minci nia minci nia minci nia mi nia minci nia minci in ıy GUY un altro centro mappa OMG Get R darumated vai nale vai nale difendi yaji Difendi a difendi a la pagossa pen no abortion lo sto prendendo io aia sopra e sopra aia un altro sopra ponte 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 let's go baby shut them down oh dio mio dio mio a me mia mi è corsa addosso shut them down tre coltellate sento male shut them down down posto nato 1 nell'agriccio la cazzo mi ha fatto un altro ma c'è uno dentro il contro di alzano fatto sono due sottobie uno era sopra mi taga tornati indietro andiamo al loro sponso vieni a me vieni a me tornati indietro andiamo al loro sponso vieni al loro sponso niente sono andato al nostro ma si ma ci senti niente niente mamma mia rega questi sono proprio fessi manco però io ti dico una cosa dammi retta a me quando te la dico porco tu non è morto che non devi dare che mi posciano attenzione attenti in verde attenti in verde tu in verde stai attento dai tu va che mongoloide bravo manco ok andiamo uccide quello sopra b andiamo uccide quello sopra b e ci prendiamo noi b eccolo qua che si butta vieni andiamo a plantare in b corri 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 che se mi viene davanti non lo ammazzo la pastella la pastella quale? quella da loro? si va in guerra va in guerra manco vengo con te andiamo 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 da loro andiamo da loro andiamo da loro vai 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 cammina sono con te è uno solo comunque eh si si facciamo il giro bene eccolo shut them down eccolo quanta violenza io gli rasci in verde mo reggino ooooh qui dopo di nuovo qua dici? io sono da loro me l'ho arato dai no muore fatti il giro da sotto fatto il giro da sotto presenti centico si su B, su B, su B rimando Miki no, 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 no no, no, no qualcuno deve venire con me per inviare porca troia allora, un è da noi e l'altro è sopra da loro un è da noi, è da noi può avvenirti da verde bravo eccolo l'altro è da loro, è la sopra contro ti chiuderà c'è otto colpi, sì, c'è otto colpi calmo, calmo, manco calmo, è 1v1 fagli tutto il giro, eccolo mamma mia, manco il clutch 1v2, let's go, baby shut them down vieni con me, manco vieni con me, manco stunate, dietro la bomba dietro la bomba vai, vieni, esci c'è un altro è dentro c'è un altro è dentro aspetta si può venire da dietro eccolo eh, infatti lo di uno oh, shut them down lo sapevo che venivi da là, ciccio ti stavo guardando shut them down shut them down, baby andiamo in aura sorprendiamoli no, vieni no, scusate ho detto una cazzata dovete capire ogni tanto divento dislessico mi ha preso dietro un muro al centro in B no, al sotto ce l'hai sotto lamalo, lamalo, bunch lamalo, lamalo, lamalo non riesco a correre, cazzo no, è top control l'in B proprio l'altra è sopra l'altra è sopra sopra i D si è buttato si è buttato che cazzo che cazzo che cazzo che stai a fa' andagli da sotto io qualcuno deve andare in A difenderla perché io vado da sotto vado io, vado io ho la tattica suicida c'è la R c'ho messa la R ma state dietro in B non state avanti no, vengono in A uno è già sotto ma l'amata è sotto è sotto è sotto ecco la bomba è dentro verde è dentro verde è molto probabilmente in base nostra bravo manco ce ne so ok in base nostra dietro Banshee dietro da là stai mirando per terra puoi arrivare da destra da tutti i lati devi fare te una scelta shut them down Banshee bella amici madonna bravo amici così ti spegne il pad così ti spegne il pad e costinita esatto perché mi è capitato due volte prima sono passato preso uno shut them down io planto io planto instant lato loro no sto plantando mamma mia da qua non mi troveranno mai dietro porco demonio stai nascosta stai nascosta stai nascosta sono con te uno solo in bidda solo uno solo se volete ci rimango io con l'air ci rimango io ci rimango io voi andate tutti in andate tutti in e fategli il giro allora megan pro qua sac cambio a r ragazzo corre eh no arrivano stan qua eh ma no lo spacco ce ne sono due nel server due sotto io bravo l'anca altro pericapero mi dovete dare la bomba dietro la bomba dietro la bomba dietro la bomba ciao la bomba qui sua ciao bella io me vengo da te bella ciao ciao arriva tipo una brutta impressione no eccolo shoot them down bitch dai andiamo di combinare qualcosa mo eh speriamo che adesso che ho spento cioè wifi mi vedevano tipo secondi prima a parte che ho giocato male lasciamo far quello però vado a prendere Ayo allora ci penso io a coprire qua a pro shop andate voi va in bico insieme a a Marco ma ci preoccupati da prendi a da sola dovresti non morire praticamente no no andiamo va perché corre così lenta cicciona vai bush o c guarda a sinistra eh non mi scavalca è una cicciona di merda levo c di morire coglione arrivo 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 ah no gliela levo da solo vabbè la prendo la prendo la prendo andate in cucina uno marea da sopra uno top uno top quello te però si cioè gli sei dietro andate in A non c'è nessuno in A guardate la minimappa guardate la minimappa andate in A ok andiamo 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 vado in C ritorno in C a difendere Banshee vai via è andato Banshee no ho ucciso lo devi dire uno sta in ponte hai preso? morto ok coprite tutte le uscite coprite tutte le uscite guardo il centro c'è uno dietro l'ho quasi tornato l'ho tornato pisciato preso preso oh no ah questo bello no sparagli da sopra le scale sono rinati sono morta è arrivato anche uno da B sono in due un altro sul centro sopra 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 prendigli B di lo manco però quando prendi B perché ci rinascono tutti accanto guarda la mappa amici ce l'ho detto pure prima devi guardare sempre la mappa non c'ero io non c'ero io che sono in B no qualcuno no qualcuno mi è venuto addosso dico no no sono tolta la mia che cazzo di connessione cannaggio sono nati accanto prendigli C prendigli C prendigli C sono nati in loading in loading Banshee è inutile che stai così se esce uno di ammazza ti fa headshot infatti infatti me l'ha fatto non l'ha fatto non mi prendo C ma sono spongiate e basta ma io resto su A se no se la fottono K manco va indietro ti non è nata uno che c'è arriva verso i brigio ok ne è morto guarda di a destra guarda di a destra Washington sopra sono nata in C preso non muore era P di O B sono nata qua cazzi non ci prendono in C sei da solo manco B B B B B 2 in B pure in C vogliono non ci fa fa un kill porca droia miracoli non si fanno qua dai oh preso in C vabbè rega non muore questo cioè è allucinante sto tipo guarda qua ha un altro entrato a giro di vede 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 muore non muore si riconnessione ok andiamo andiamo venite no venite no sono nati in C sono nati in C venite no va il val di C 2 cucina uno sopra civa guarda mid non ho parole pochi cazzo sono qua essi sono allucinanti chi cazzo di spuonè scale mid guarda guarda è nato morto non donna io sto facendo lo sneaky bella non muore stale oh non voglio abbiamo vinto non voglio prendi la bandiera iniziale non serve buttarsi all'interno della bandiera basta che iniziate fate le kill e dopo quando ci sono almeno due morti si va a prendere la bandiera prima non si piglia sto sotto io vai la prendo io prendi io ho detto ma che c'è non ci sentite io ho io ah ho capito prendete prendete A no B l'altra bandiera B è nato dentro doppia buona buona figlia 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 va vai brava 2 2 2 2 2 me lo prendo là ho scavalcato è sinistra sinistra è sinistra mannaggia ti sei messo davanti sì un altro un altro sinistra sinistra un altro devi cercare di scappare come fai una kill è dentro si ah faccio una cosa raga e dovete andare piano cioè vi buttate una alla volta vi ammazzano in continuazione uno è dietro verde uno è stunnato sulla bandiera è uno che mi sparano in fondo sono in control uno due sotto preso fanno quattro però porco dio andiamo uno è l'ancorino a destra appena entri bella aiuto mi rinascono qua dietro 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 in verde guardo blu guardo blu non c'è nessuno guardo blu 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 un altro vado da loro un'altra ancora mi sta venendo a prendere fai prefire fai prefire alla mia destra banshee spara 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 fai prefire brava nooo mi sono girato massimo è dentro B regà l'ho preso l'ho preso arriva da C a destra e rinasco con contro 1 vado contro 1 ma regà dovete fare 2 kill bravo ok io gliela levo solo C non la catturo ma tornato no vai a incendere in via in via in via in via in via in via blu attenzione da blu non uscire putta la donna mia no a 2 vai 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 mi vogliono ragazze scusate c'è la granata di merda uno sopra control valli in C valli in C andate in C andate in C andate in C andate in C lo stunnato c'è uno dentro B stunnato arriva arriva manco c'è un altro c'è un altro fuori mi occupo io di A mi occupo io di A amore sono 2 state in C state in C state in C ci sono io no ci sono io non va giù vai vai abbiamo vinto noi se tenete andate in B andate in B andate in B Banshee cosa fai c'è manco davanti a te mamma mia mamma mia mamma mia scerito sei fatto oh mio Dio cosa sei fatto paura paura no raga guardate no no raga l'ha terminata l'ha terminata l'ha terminati vi giuro raga l'ha terminati butto una stunnunga che è in fondo in fondo in fondo in fondo vai 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 ecco l'escrivato vai 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 salta fuori ammazzano stiamo andando in B pensano a non B non vuoi B no questo non muore questo no Michi chi era c'è lì ha sparato troppo a sinistra non arrasciare no basta fatirlo però vai pure a D con loro io rimango dietro allora sopra B sopra B suonato un in A suonato un in A lo vado a prendere preso mi è sceso mi è sceso va snake va snake occhio non in verde c'è un ventro verde preso un ventro verde un altro sopra B oh madonna sta entrando dentro B ferito prendilo no vabbè no no dai come ha fatto come ha fatto quindi sei su B sono su B si stavo sparando ancora te sopra B senta va bene che non mi muoiono però sono nato in A cioè in B scusa preso c'ho pure c'è un altro preso 2 ma preso è passato in verde raga dentro verde bravo ok ok buono io dovrei aver fatto vabbè dai andiamo in B andiamo in B prendilo prendilo vabbè prendilo vabbè prendilo vado a rompe il cazzo se no è un trophy è washoutissimo è tornati indietro è tornati indietro ecco manca silenzio di tomba mio dio non c'è manca silenzio di tomba questa raga uno lo senti di sicuro ah qua dentro esattamente proprio lui addirittura che f***a oh ho fatto pure il drop shot assaltato guarda che sf***a bella lo ha rotto ho lanciato la smoke in B ok sto pushando da loro è pronto è sotto è sotto è sotto madonna ferma in un angolo lo vedo non era quello non era quello scappa scappa se lo può usare se lo ha inserito eccolo hai chiamato la sinistra si se l'ho ferito sono washout vengo da te vengo da te che cazzo mi mori in merda abbiamo ancora B? si 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 correndo io corro con l'SMG andategli da guerra salitegli da guerra velocemente se c'è dei granate tirategliela in guerra io curvo subito tirategli qualcosa in guerra tirategliela eh io c'ho un suo fumogine una planta vabbè arrivano dal centro da noi watch it watch it sulla bomba sulla bomba si 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 sti cazzo è una challenge alla fancola è più qua è andato sopra sulla bomba è andato coperta la bomba la bomba mi stai nascando buono vanno andare sotto un arrivo in via arrivo in via un è sotto passerella 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 gialla uno l'ho preso bravi bella bravi stiamo a fare il comeback mi sa che è diventato un attimo forte sta arma lo sai sono sotto K9 no no quel fucile assalto l'onibedger l'onibedger dicono si è diventato OP ragazzino secondo piano l'hai chiamato un è sdraiato un è sdraiato lo prendo io se vuoi ci sono dietro vai 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 cazzo avverso di voi ragazzi niente ce l'ha qualcuno è il bug buono in effetti no mi ha beccato mentre saltavo tutta una sinistra due no ma dai dai da dietro ma no mi sono girata una testua sua comunque ma dai ma che fai lì sì ma dai ce l'ho detto i nostri che sfiga è il momento giusto proprio per muoverti come ti sei morto non è arrivata la stun proprio così dai ma che culo che sciavuto qua eh sì vengo pure io con la guerra anzi vado a controllare sotto è l'ultimo round è l'ultimo round campra manco guarda dove vanno guarda dove vanno sopra in B ok gli stoffo al giro è della stanzina vado a prenderlo preso uno che andavi no mid 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 vai tre morti vai 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 lo vinciamo questo è il nostro muori merda io ho rotto la faccia a questo let's go cambio di player only asset drastic rk insane rk namo let's go no 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 ah se se perdiamo questa partita mi fai perdere il radio 29-0 nelle partite di lega 100-0 ti lo dico vabbè piadere con l'altro non ti apiare con me che io sai che sto scarso io me la piogo con te uno dentro bone shop va dentro benzina l'ho ferito one shot dentro bone shop è dietro al centro è uscito fuori asse ciole sinistra preso ragazzi ho due benzinaio guarda che dietro noi dietro noi power dietro dietro preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso no c'ho fatto dietro di me sull'inati a destra sull'inati a destra sull'inati a destra allora famo le kill e poi prendi la bandiera preso uno fuori uno allora attento asse piano abbiamo perso il comando ha uno dietro camion strip raga preso go ora 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 prova a prenderla prova a prenderla in tre in tre in tre vai l'abbiamo levata scappate scappate ce l'avete dietro bravo nascondetevi 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 raga nascondetevi ok perfetto nascondetevi nascondetevi drastic ti giuro ti vorrei aiutare in tutta noi una destra una destra una destra una destra allargatevi verso puttane raga allargatevi verso puttane cioè doppia stun usa le verso puttane scappa da loro nasconditi nasconditi oh ma no 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 l'ho visto l'ho visto va al centro bravo si good job attenzione a c raga qualcuno avrebbe fatto il giro aspetta l'ammazzino gli sono dietro gli sono dietro l'ho fatto bello attento it's aene uno middle preso uno middle camion strip attenzione c'è un'altra 32 middle uno lo prende ok bravo uno strip push e broker oh cosa cos'è sta kill ce l'è davanti ce l'è davanti lama 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 c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro è uscito da strip è uscito da strip è davanti arato ma raga sotto po' sotto po' sotto po' preso l'ho preso io rinasco da sinistra ora rinasco a sinistra ora soprapone soprapone oh l'ho annichilito pur non c'è una idea dal tank middle no uno middle uno middle ma proprio un shop nostro ah se non entrare negli spawn non entrare negli spawn no ma che è come è sdraiato di fianco a b raga è sdraiato di fianco a b eh lo so lo sto cercando c'è un altro let's go baby shut them down a destra vi rinascono a destra vado io n'a vado io n'a oh due dentro uno cagli la guai gliela guai gliela guai gliela guai non so dove rinascono ora dovrebbero rinascere verso c o dietro di me destra 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 strip occhio guarda questo tesco pure in prefire perchè so che sei lì lurida troia ah se no eh ci avevo finito i colpi let's go baby shut them down vabbè dai partita di merda oh io l'unico stranso in negativo quanti colpi cinque colpi direi grazie a tutti